Le nazionali restituiscono a Luciano Zauri tre giocatori su quattro con il morale alto. È già rientrato ieri Grigoriz Castanos, che con il suo Cipro ha giocato 58 minuti da titolare la prima partita pareggiata col Kazakistan e poi è subentrato nell'ultimo quarto d'ora lunedì sera nella vittoria della sua nazionale a San Marino. Momento super per Marco Tuminello, il centravanti di proprietà dell'Atalanta, è andato in gol sia nell'amichevole di Catania contro la Moldavia, che ieri sera a Castel di Sangro nel 5-0 che l'Under 21 ha inflitto a Iparieta del Lussemburgo per le qualificazioni all'europeo di categoria. In entrambi i casi Tuminello si è fatto trovare pronto entrando nel secondo tempo. Molto bene ieri sera anche l'Erian Memuschai, gran gara e ben due assist nella vittoria 4-2 dell'Albania sulla Islanda di Bjarnason nel gruppo H delle qualificazioni al prossimo europeo. Memuschai che aveva saltato la gara in casa della Francia venerdì scorso. Con il broncio il solo Svante Ingelsson, la sua Svezia Under 21 è stata superata in casa dall'Irlanda 1-3. Per lui 81 minuti in campo, sostituito sull'1-1, poi la sua squadra è crollata. Rientro odierno per Tuminello e Memuschai, domani per Ingelsson. Dopodiché Luciano Zauri potrà preparare quasi al completo il match di domenica a Cosenza, quasi perché bisogna fare sempre i conti con gli infortuni di Balzano e Crecco, Sicuri assenti, Bettella, sempre alle prese con la contusione al piede. Nelle prossime sedute andranno poi monitorate le condizioni del portiere Vincenzo Fiorillo che ieri ha accusato un risentimento agli adduttori. In caso di forfetto, che era a Castrati, mentre a destra Ciofani è favorito su Zappa per la sostituzione di Balzano. Per il resto, Zauri dovrebbe confermare l'undici che ha battuto il Pordenone, con Macin preferito a Castanossi Mediana, Di Grazia esterno e Tuminello centra avanti. Quest'ultimo tra Pescara e Nazionale ha segno in cinque delle sei partite giocate. Sarà una gara speciale per Luca Palmiero, che ha trascorso le ultime due stagioni nella Sila, annate importanti per la sua crescita, con una promozione in B tramite play-off e una brillante salvezza. Partirà dalla panchina l'altro ex in maglia bianca azzurra, Riccardo Magnero. Il Delfino proverà a riportare dal San Vito una vittoria che manca dal 1998, quando il Pescara di Gigi De Cagno dilagò 1-5 con Esposito, Pisano, Galeotto e due rigori trasformati da Gelsi.